Avvocato Rocca, ci sono stati nei giorni scorsi gli esami per gli amministratori di condominio e dobbiamo dire c'erano tanti giovani avvocati, ma non solo. Certo, è vero. Siamo riusciti a portare avanti questo corso per amministratore di condominio e c'è stato un successo del corso perché gli iscritti sono stati ben 36, tutti calabresi, la maggior parte sono stati avvocati del foro di Crotone, ma ci sono stati anche architetti, giovani laureati e anche alcuni diplomati. Siamo riusciti a portarlo avanti in difficoltà perché con la pandemia le lezioni si sono svolte in modalità telematica con videocall e poi siamo riusciti in questi giorni a realizzare gli esami in presenza presso l'Università Nicolo Cusano di Crotone. È comunque un settore nuovo che, rivolto ai giovani in particolar modo, significa una formazione diversa e soprattutto la possibilità di entrare nel mondo del lavoro. Certo, è una nuova opportunità, soprattutto in questo periodo di crisi post-pandemico. La classe Forense in particolare, io mi rivolgo a quella perché sono consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Crotone e sto verificando, vedendo di persona che ci sono delle difficoltà nel reperire il lavoro e questa dell'amministratore condominiale può essere un'occasione per tanti giovani colleghi, oltre che un approfondimento professionale sulla materia condominiale, una materia difficile, una materia articolata, una materia che richiede tanta attenzione nello studio e nella consulenza ai diversi condomini che chiedono di essere ascoltati da noi avvocati e dai futuri amministratori condominali per la risoluzione delle proprie controversie e questioni condominali. Ho visto tante donne, quindi è un settore che piace alle donne che fanno parte degli avvocati, dei commercialisti, come diceva lei. Una grande attenzione, quindi significa che si apre una porta in più? Sì, con grande piacere. Ho notato che gli iscritti al corso erano al 70% donne, quindi le pari opportunità in questo caso sono state superate, benvengano le donne, benvenga la professionalità nel diritto condominiale per le nuove amministratrici condominali.